Krasnodar e Manchester United, le due squadre che non hanno ancora segnato dopo una giornata, si affrontano per quella che è un po' la sfida tra le squadre un po' più deboli del raggruppamento B. Si va apre con questa perla assoluta di Biryukov da fuori area, un gol bellissimo del numero 10 del Krasnodar che sorprende il portiere Forsho, un destro da fuori area davvero ben indirizzato. Poco può fare il portierino dello United ma poi lo United inizia a giocare e si trova subito in gol, Missin fa tutto lui, il facile tap-in di Sims Cole, anzi Sims Cole esatto, nome e cognome, sono entrambi cognomi pertinenti qui, Cole appunto di cognome. Mette il pallone in rete 1-1 e poi arriva il 2-1 proprio di Sims Cole, qui molto più bello il destro dalla distanza che sorprende Sheremet malpiazzato, 3 punti per il Manchester, 0 punti invece ancora per il Krasnodar di fatto eliminato.